5 film da vedere per la festa della mamma, se volete passare una giornata all'insegna del cinema con la vostra mammina non dovete perdervi assolutamente questi film che racchiudono un po' diversi tipi di vedere il cinema partiamo nella nostra top 5 e al numero 5 troviamo 18 regali, un film drammatico che vi farà versare molte lacrime che racconta una storia vera, perché alcuni eventi sono tratti da una storia realmente accaduta di una mamma che dopo aver scoperto di avere un male incurabile fa regali alla figlia durante i vari compleanni e gli anni fino ad arrivare ai 18 anni, la ragazza non accetta che la mamma le abbia comprato diversi regali durante questi anni e non vuole sapere il regalo per i 18 anni e fugge di casa una volta che fugge di casa viene investita e si ritroverà a combattere tra la vita e la morte durante la quale incontrerà in qualche modo sua mamma io non vi dico nient'altro ma sappiate che è un viaggio emozionante che vi trascinerà a fondo e nel pieno del dramma familiare che la ragazza sta vivendo potete trovare questo film su Rayplay ok, dopo le lacrime passiamo alle risate ovvero Freaky Friday, quel pazzo venerdì con protagonista Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan due donne, una donna e una ragazza quindi mamma e figlia che vanno sempre a contrasto, quindi discutono per ogni cosa la mamma conservatrice che non vuole lasciare spazio alla figlia di vivere la sua vita e la figlia sempre di belle che vuole vivere appunto quello che le piace senza dare troppo retta a quello che le dice la mamma un giorno le due mangiano un biscottino della fortuna e la mattina successiva si ritrovano una nel colpo dell'altra qui si riusciranno a comprendere a vicenda ognuna comprenderà le ragioni dell'altra e alla fine del film sorprendentemente vi emozionerà moltissimo quindi vi invito a guardarlo che potete trovare su Sky and Out dalle risate andiamo al terzo posto con un film un thriller che si può definire un thriller poliziesco che potete trovare su Prime Video ovvero Mother Madre, diretto da Bongiuno, il regista di Parasite e Snowpiercer per intenderci è un thriller che vede protagonista questa madre che dovrà cercare di scagionare il figlio che ha problemi cognitivi dall'accusa di omicidio quindi un'avventura divisa tra il rapporto madre figlio appunto e quello che sta succedendo in questa piccola cittadina vediamo un po' quello che le vicissitudini che passa il ragazzo dopo essere stato accusato di omicidio quindi un thriller che vi farà saltare dalla sedia e che vi consiglio caldamente perché Bongiuno è una garanzia di qualità e di successo soprattutto per quanto riguarda questo tipo di film quindi un thriller che consiglio assolutamente Dopo un thriller poliziesco passiamo a un thriller claustrofobico che ha come protagonista Brie Larson una madre che cercherà di crescere suo figlio in una camera 3x3 room appunto il film che ha di elettoralità thriller horror è molto claustrofobico e racconta la necessità di far crescere Jack questo bambino di 5 anni in una stanza piccola e angosta ma così viene chiamata la ragazza fino ad un certo momento del film dovrà cercare di far passare i giorni a questo bambino senza fargli pesare la dura realtà ovvero che sono rinchiusi in questa stanza 3 metri per 3 senza riuscire ad uscire e a vivere una vita normale quello che accadrà successivamente sarà un piano di fuga architettato tra i due che se dovesse andare in porto metterà madre e figlio alla prova e a vivere il mondo reale alla dura realtà e a capire cos'è essere madre da parte della ragazza appunto quindi vi consiglio caldamente questo film che potete trovare come detto su Sky & Now chiudiamo la nostra top 5 con un film enorme diretto da Marty McDonagh ovvero tre manifesti a Abby Missouri con protagonista Frances McDormand la pellicola la potete trovare su Disney Plus nella sezione Star e parla di una madre che cerca a tutti i costi giustizia per l'omicidio della figlia trovata violentata e data fuoco al cadavere nei pressi nei dintorni di Abby questi tre manifesti sono quelli che lei stessa ha pagato il pubblicitario per appendere e contesta l'operato della polizia una polizia appunto che vede come comandante Woody Harleysson veramente in gran forma con un Seck Rockwell da Oscar perché ha vinto appunto l'attore non protagonista la solidità per il miglior attore non protagonista un film intenso ricco anche di black humor solo come Marty McDonagh sa fare che ci racconta la lotta della donna per cercare di scoprire l'assassino della figlia dove la polizia non agisce dove la polizia non riesce ad arrivare e racconta un po' questo rapporto difficile con la figlia che non riesce mai a legare con questa mamma che alla fine nonostante tutto le vuole bene e che non riesce mai ad esprimere i suoi sentimenti verso questa ragazza che dopo l'ennesimo litigio decide di uscire di casa e non tornare più quindi è un film che consiglio caldamente ragazzi e dovete recuperarlo a tutti i costi o vi ringrazio per avermi seguito fin qui scrivete qui sotto un commento se vi sono piaciuti questi film se li avete visti se volete recuperarli o se avete altri consigli quindi vi invito a scrivere cosa ne pensate in descrizione trovate anche il link per seguire i nostri canali social Instagram Facebook e Youtube appunto mettete il mi piace al canale e vi iscrivetevi per avere ulteriori consigli dei film da guardare grazie a tutti per avermi seguito fin qui buona giornata da Valerio e da Jack Azione grazie a tutti